Ciao amici di Crivoci Italia Mi presento perché sicuramente non mi conoscerete ancora Mi chiamo Steph Sono appena entrato da poco nell'account di Jackpot E sono il suo condivisore Quindi comincerò a fare anche dei video nel suo canale Quello che apprezziate Oggi siamo qui per fare uno scoratta Infatti io addirittura avevo puntato il record nello score attack Assurdo Io di solito non è che sono forte però Ero riuscito a puntare lo score attack Oggi provo a usare questo team qua nello score attack Non è il massimo perché non abbiamo proprio le cose adatte per questo genere di score attack Ma ci possiamo provare Quindi Prendo tutti questi potenziamenti Vado se team è giusto Si Ragazzi io ci provo Non è tantissimo che Sicuramente farò meno rispetto Allo scorso score attack Perché comunque sia Lì avevamo anche Susanoo E anche altri yokai Insomma è un po' più buoni Qua usiamo benimaru Però Vediamo Ci proviamo Facciamo qualche squadra attack Ripeto Non amiamo Yokai Chissà quanto alti Però Ci proviamo Allora Innanzitutto faccio così Ovviamente ragazzi iscrivetevi perché andiamo verso i 14.000 iscritti quindi Fatelo Cioè Non lo fate Siete cattive persone Ve lo dico Sì vabbè questo primo Fever è andato un po' così Secondo me C'è vero di Rifarmi Di chiedo scusa Un po' Sono un po' in ansia per il primo video Quindi faccio così E vabbè Non lo Non ho Non ho Fatto il popper Ma adesso cercherò di farlo Ok vabbè fin qua tutto Basilare Faccio così Ok Adesso comincerò A Farmi il popper Tanto la prima è giusto un po' di riscaldamento Un attimo perché Non ho ancora fatto una scorata Che oggi Quindi Sono un po' Arrugginito Quindi non ci fate caso Vi prego Ok Faccio così Faccio così Faccio benimaro E lo uso Qua Non riesco a far neanche il sopporto Faccio così Non farò tanto E poi faccio anche così Ok Sì Ripeto Non ho fatto niente qua Perché Ripeto Il team È quello che è Posso magari provarmi un altro Dopo questa prova Dopo questa prova Però non vi assicuro niente Veramente Non vi assicuro niente Che questo tipo qua Non mi ci trovo tanto bene Se devo dire la verità Non mi ci trovo tanto bene Facciamo un'altra riprova Che a me Adesso non voglio spiegare monete Perché vorrei cambiare il mio team Magari per testare un altro Proprio perché Non c'è Non fai tanti punti E questo È un bel problema Allora 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 Io comunque sia Mi terrei Il Dandori E quello Dark Dico E mi terrei anche Tranquillamente Lei O Mazzu si chiama Se non sbaglio Ho sbagliato Ditemi Perché Io con le pronunce Faccio un po' Un po' schifo Allora Cerchiamo va Audaci E Generosi Perché gli spediti sono Giù Cioè se li utilizzate Non fa Cioè Avete Meno danni Perché Sono poco efficaci Quindi Vediamo un attimo Cosa potrei usare Justamente Non lo so Forse proprio Quelli più buoni Sono questi qua Che Avevo messo Non so Ok Provo a farci una cosa Che magari Saranno Stupidata Però Secondo me Dovrei metterci Due booster Perché Uno solo Insomma Non è che fa Chissà quanto Vorrei mettermi Due booster Ma Quali booster Che quello è il problema O Improvviso Mettendo questo Ecco Secondo me Anche se Vabbè Mettiamo un po' Più di danno Ma Gli hp Un po' Passi Ma neanche tanto Dandori Roterrei Venimaru Secondo me Venimaru Può starci Io direi che Così potremmo andare Noi ci proviamo Noi ci proviamo Non vi assicuro Niente Meglio di niente Per la fine Perché almeno Servirebbero Due booster Quindi Va bene E Ci sono anche gli scudi Che potremmo usare I splendidi Però no Perché I splendidi Ripeto Non sono Cioè Sono poco efficaci Contro questo Boss Quindi Se volete usare Komami Ad esempio Che è stra OP Ma Non work a niente Qua Perché proprio È inutile Proviamoci Oh no Anche generosi Cavolo Dimenticavo Però Sono gli unici booster Cioè diciamo Sono booster Almeno Neanche faranno Chissà quanto Ma Tentiamo Che devo dire Allora Così Qui Ripeto Non riuscirò A fare niente Forse sì Sì Vabbè Ma pochissimo Proprio Oh cavo Ok Faccio Così Qui non ho fatto niente Ragazzi Proprio Ho fatto schifo Ok Però ripeto Qua Non fateci caso Non ho fatto niente Ok Vabbè Accettato Vedete abbiamo fatto un po' più di danni Perché sono Questo team qua Forse Work a qualcosa in più Anche se non avevo usato L'edentio max Del dandori Però vabbè Adesso Ci rifacciamo Tranquilli Allora Allora Ok Ok Adesso ripeto Che poi avevo anche Purtanto il record Nell'account Però Lì avevo Yo-kai un po' più skillati Un po' più buoni Sto cercando di Farcela anche qua Eh ok Eh qua Ok Ok Adesso mi rifaccio tranquilli Dandori Ok Benimaru L'uso qua Faccio così Potevo scoppiare Quello più piccolo Effettivamente Però Vabbè Faccio Qui Tanto Sono col Benimaru Lì Per carità Abbiamo fatto un po' Oddio un altro Fortuna Qui ho avuto un botto di fortuna Ok Va bene Ci accontentiamo qua Però Non credo di Riuscirne con un altro A meno che Non vado proprio straveloce Però Non ce la faccio Raga No Mi sa che questo Per ora È abbastanza alto Per Avere questi Yo-kai qua Fidatevi Perché Vabbè Che sto andando avanti Va bene Facciamo l'ultima prova La più decisiva Ci fanno andare Il più veloce possibile Questo è anche Un record Ok Però Ripeto Il team Non è Il massimo Ripeto Perché Purtroppo Se avevamo Komami Che potevamo utilizzata Che Beh Era OP Però Mi sa che Ti spieghi Il generoso Sono quei di svantaggio Però Ho dovuto Almeno mettere Due booster Perché Anche se erano Un po' efficaci E non workavano tanto Però Alla fine Devo comunque Tenerlo Cioè In qualche Cioè Non posso non mettere Di booster Se no Non faremo mai Danni Quindi Riproviamoci Ok Madonna Santa Ok Va bene Ok Poi se non parlo tanto Perché Primo video Con un canale Di 14.000 iscritti Quasi Quindi Cioè Capitemi Ok Va bene Qua va bene Ripeto Il primo Va bene Lo facciamo anche Senza popper Perché poi Sprechiamo Troppo Troppo tempo Quindi Ok Rimaro Ok Va bene Meglio niente Questo primo Questo primo Fiva Va benissimo Mi accontento Va bene Mi accontento Del primo Veramente Ok Dandori Amazio Ok Ok Va bene Dandori Ancora qua Ok Riproviamo Ok Così No Perché Ok Faccio così Nessun Usuo bene Un'altra Però faccio Prima Così Va Che Meglio Ne Ne Dandori Tipo Di più Ok Va bene Da tutto Sommato Qua Non è che Mi ha fatto Tantissimo Ma Neanche Poco Dai Ci possiamo Accontentare Accontentare Dai Tutto Sommato Ok Sto cercando Anche di Farlo più Velocemente Possibile Però Non credo Di riuscire Fare un altro Fever Forse Sì Sì Ok Va bene Dove essere Veloce Ora Ok Uno Due Uso Un attimo Prima il suo Tanto Non mi importa Se Dandoli Lo faccio Prima o dopo Adesso Lo uso Per sicurezza Ora Cominciamo Con minimaro Ok Qua Ok Va bene Non credo Che siamo Tre Ecco Forse Sì Non lo so Non lo so Adesso Lo vediamo Ripeto Quando Ci sarà Un buon team Sì Un buon team Da utilizzare Ve lo prometto Che vi porto il video Ve lo prometto Questo diciamo Che era un video Per conoscerci Per farla breve Quindi Spero Che questo video Vi sia piaciuto Arriviamo Il 14.000 iscritti Lasciate like Perché è obbligatorio Perché se no Siete delle brutte persone E ci vediamo In un prossimo video Ciao